... ... ... Volevo fargli un colloquio nel trecitto ma se non arriva entro due minuti me ne vado Ho capito che devo fare una buona impressione Va bene, va bene! Come si chiama sta perutrice? Patrizia! Come la prostituta di romanzo criminale! No, no! Per fortuna non è una di quelle robe da prota intellettuali nel cazzo che poi dopo una puntata chiude Un altro che vuole conquistare la Kamchatka La Kamchatka! E mo' mi son rotto il cazzo! Va bene? Mi piace la bamba, la figa e il gioco d'azzardo Vado in Talandia e baffanculo a tutti Adesso sono veramente eccitato La parola non è buona Rezbolla La parola non è buona La parola non è buona Il fattuto il d'ac 해�ato doctors vedi e allora Grazie a tutti